Adesso Gaetano ci racconta qualche cosa di suo cappello. Cerco di stare sulla terra per come il cittadino che ci ha fatto fare. C'è l'altro sei anni e mezzo dopo di me. Intanto la cosa, Maurizio Mandorani ha comunque contrariamente sottoscritto la possibilità di fare un'esperienza di azione cattolica. E si è distaccato dall'azione cattolica quando aveva tre e due anni perché a sé, invece, abbiamo portato un modello di organizzazione di statuto del circolo della nostra parrocchia. Io non ho mai tentato la parrocchia, ma non per ragione ideologica perché in cadoglie di altro ne sarà il piano di parlare di questo. Lui si stacca quando l'ipotesi che facciamo di usare come modello per lo statuto del circolo della nostra parrocchia è ingerciata dal prete. E se dite che la parrocchia cattolica non è l'Italia. A quel punto non dice che la parrocchia cattolica è la parrocchia. A 16 anni si scrive allo su, prima di me. Io mi ero scritto nel 63, ero vicino, in un partito che si è stato scritto in Italia. Maurizio si scrive nel... Allora, compie le sue ferie al servizio della federazione del SU nel 64, è stato nel 64. Dopodiché decide di scriversi e poi convince anche nel superare del SU. Io però mi sono scritto nel ferie nel 1965. Quello che dobbiamo dire è che noi abbiamo avuto la fortuna di avere una federazione con tanti giovani e siamo stati messi immediatamente alla propria. Non c'è stato spazio per dare un'altra storia. Ma siamo stati costretti ad assumersi dei compiti di vaccino e della responsabilità. Vaccine nei confronti, ma tutti gli aspetti dell'organizzazione di una forza politica, che non è, sa che era piccola, doveva dire una dimensione di massa, che doveva organizzare delle simone, che doveva imparare a parlare con la mente, doveva imparare a parlare, doveva imparare a scrivere. che doveva imparare, doveva imparare a prepararsi, doveva imparare, doveva imparare a parlare in pubblico. Io ricordo, c'è una cosa che mi sarà sorridente, che nella campagna elettorale del mio non c'è stato scoperto. Mi sono trovato in una persona che mi ha dato, ecco l'unico scoperto, faccio dal mio fratello, e questa volta, a me non mi ha conto i quali dei numeri, mi ha fatto il rischio, ma dove c'era una trascorazione, i vecchi anziati, e gli sono andato a mangiare, i problemi, i sociali, i problemi, i problemi, i problemi, i decidenti di questo mondo, e questo mi ha chiesto a un certo punto, bravo, 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 grazie, ma erai conestate. A presto a dire la nuova puntata su, scendere su di dentro, andranno in maranto a sapere come venivano arrivati i temi delle stalle, qual era il genere migliore, che cosa dovevano fare, nel senso che ci trovavamo immediatamente in un'altra parte, che assumeranno un'altra parte, un giorno le cose che erano andate a fare, una delle vie per le campagne elettorali, hanno fatto da 150 chilometri con elettrici, per esempio si agliarra, arrivo e dico, ma oggi vi sanno, per uno che si diceva, abbiamo preso una parte, di un'unità che abbiamo contato, una serie di appuntamenti, che era di un'unità, non è difficile, 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 Maurizio ha evitato anche la sobrietà delle stelle, però il nostro sistema di un osso, rispetto a quelli di adesso, funzionava così, fino a 400 lire, non si vedeva, se vede una vera, di un corso, perché tanto lo mangiavamo a mia casa, alle 400 lire, alle 725, allora si è ragione, perché si stanno diventando, che si stanno diventando, sopra le 725 cose, e le altre ragazze, perché erano, hanno preso dei costi di, ho troppo, o che, per dire, noi non busavamo via niente, non riuscivamo, ma anche, se viene, sul buonattino, ma ancora recentemente, non è una parola di buon piatto, è stato, che si è, non è una parola di buon piatto, più rigida già in alcuni tempi si è ricordato abbiamo fatto conoscenze ci siamo beccati nelle nuove c'erano in uno gioco all'ultimo domenico l'azienda ha fatto la mia vita mi ha beccato me mi ha beccato me ci hanno passato il testo della denuncia e a quel punto il fatto di diseguare sono dedicato di diseguazione per me e questo per me che hanno preso il carattere un buon libro sono da 6 a 12 anni adesso le cose c'erano potrebbero dire ovviamente ci venivano i britti di quanto sentivi questo punto e io vorrei dire che le cose che ho sentito stasera che mi ricordavo a Misegnani il modello di intervento di città di setta tanto il fatto che c'erano in cui ho letto l'occasione di non la gattere mi ricordavo che c'erano che c'erano che c'erano il punto facile ci sono stessi quando Morali dice che la rivoluzione è un processo progressivo che vuol dire che però ogni giorno io devo contestare l'età e non vuol dire che c'è un momento di una lista però che contestava la mia vita e a cui di contrattare la professione che è un processo di una che hanno fatto che anche le persone che ha visto la professione nazionale devono essere consapevoli quindi all'inizio di tutta l'età che si vengono e non che ce ne è un momento che possiede tutta la verità che si va in un periodo di partito perché è una delle due delle cose che morandiano prima la classe e poi il partito mentre se lo vengono e nascono poi per l'esperienza e per l'esperienza della testa internazionale che deve partire perché è nasce tra l'altro secondo un processo militare perché quella è una rivoluzione un colpo di stato perché è una molto importante con tutte le conseguenze che ha avuto queste cose se ritrovano tutti vorrei dire una cosa purtroppo ci sono stati delle tentativi di mostrare la loro in questo mondo per il governo e guarda a caso sono stati di Vittorio negli anni negli anni 50 e molto ma è quello che aveva pensato di doversi migliorare con le esperienze di generale di messa ecco che diceva che non poteva ripilarla da un volino recentemente che però non dice tutta la verità un volino di nuovo recente articolo di momentare non poteva non poteva liquidarla perché lui dice il PC aveva l'ultimo atteggiamento dicendo che era paterna era un accidente non era paterna il PC non era carri di un rapporto del rapporto con il basso con il basso per la questo è tutto questo è il punto che era esattamente l'opposto di quello che stava di morale e quando lui imposta questo discorso poi chiamano chi c'è il dittorio il dittorio il dittorio il dittorio e poi poi il dittorio c'è il dittorio che si deve lavorare con questi processi che si deve entrare nel merito questa cosa su lavoro burocratico ma guardate che si attaglia anche la realtà che è subito perché su un punto di un detto sono state passate a scurare di cassa cassa di conto perché abbiamo dato la mano a dividere i progetti lavoratori e i nostri amici diciamoci una carica perché chi conosce qual è l'esperienza del precariato del pubblico di europeo che non ha niente del migliore rispetto al precariato poi so anch'io che ci sono delle degenerazioni però guardate quando quando è che cambia la situazione avete presente il comune del genere avete presente quando adessano i marini quando i marini erano pacifisti diventano quando il primo di attività c'erano il carattore c'erano o l'unico o l'unico o l'unico e erano i miei che sono stati vent'anni precari vent'anni i lavoratori dell'ostradio psichiatrico di licenza hanno fatto vent'anni di giornali di arato venivano astrutti dal mattino quindi sono stati trasferati dalle notate del ritorno perché non va dimenticato ma si è andata a vivere anche nella scuola c'era gente che aveva 25 anni di precariato e tu cosa fai? i fieri vivi i fieri vivi quando finalmente riescono a entrare nello peccato questi si prendono una sorta delle lecce molto squadra ma prendono una sorta di medici non ci sono i santi parlo di quelli delle portiere dell'altro bordo dei dirigenti che non hanno vanno per 130 anni ma sono dirigenti cresciuti sulla base delle convenzioni sulla base di amore e la potenza è quello che dice è ci va molto quindi lo dico secondo me anche sui diritti di attenzione se avete letto bene le parole di grandi sono morti parlo di assoluzione di responsabilità allora il diritto si assolta sempre di responsabilità cioè devi sapere quando quel diritto è un momento che tu hai più responsabilità nella città devi puntare di più diventi più cittadini quindi su questa strada tu ti devi conquistare devi conquistare nella città è una cosa che io non ho mai accettato è un sabotaggio del politico ma c'è la cosa più sbagliata di questo mondo la cosa più facile ma anche la cosa più sbagliata perché se tu invece entra in processi che le cose che mi chiamano la posizione come modello di intervento è lì che conquisti del potere perché acquisiti conoscenza acquisiti capacità di gestione acquisiti capacità di proposta allora come è il caso del mio